Bentornati a questo corso di filosofia online su YouTube e andiamo avanti nell'analisi del pensiero cartesiano o perlomeno su alcuni aspetti del pensiero cartesiano. Siamo sempre su YouTube, ovviamente non è il posto principale di meditazione, è sempre necessario poi leggere, studiare in solitudine o beata solitudo o sola beatitudo e rimuginare, ruminare i pensieri nella propria produttiva solitudine. Ma ovviamente YouTube può essere un canale di stimolo alla riflessione e questi contributi video, si spera, portino a questo, all'approfondimento, alla riflessione, alla stimolino, come diceva Remo Bodei, una scintilla di conoscenza. Allora, ricapitoliamo per chi si fosse sintonizzato solo adesso. Naturalmente questo è un corso di filosofia, ci sono video precedenti, siamo arrivati al 600, naturalmente siamo partiti dai presocratici e poi su su fino al 1600. Potete tranquillamente trovare la playlist su questa pagina e andare a rivedere i pensieri dei filosofi che più vi alluzzano, o vi stuzzicano, o anche quelli che vi lasciano più perplessi e vi fanno più arrabbiare. L'importante è che la mente sia sempre in movimento, in fermento e il crino, il giudicare, la critica, sia sempre come il fuoco brillante. Allora, cosa vuole fare Cartesio? Cartesio vuole ricostruire dalle fondamenta l'edificio del sapere e la vuole ricostruire sulla roccia e sull'argilla eliminando la farinosa sabbia che fa franare l'edificio. La sabbia fuori metafora sono i sensi, la sensazione, che in passato ci hanno ingannato più di una volta. Certo, Cartesio non fa come Platone che risolveva tutto nell'illusorietà della realtà. La realtà non è illusione, ma ci sta dicendo qua che i sensi sono qualcosa, un punto di partenza, ma non sono abbastanza rocciosi, cioè affidabili, da affondare l'intera conoscenza. Avevamo lasciato Cartesio nella drammatizzazione del soliloquio, del dialogo con se stesso e ci aveva detto questo. Sono arrivato a un punto di dubbio metodico, di dubbio iperbolico, per cui non posso essere sicuro di niente. Sono in una situazione altamente dubitosa, ma lo sono io, sono io che dubito. Penso dunque sono, ovvero esisto. In latino ce lo dice Cartesio, spesso viene abbreviato, ma la formula estesa del cogito è cogito ergo sum, sive, esisto. Penso dunque sono, sive, ovvero esisto. Questa è l'intuizione di base su cui Cartesio costruisce tutta la sua filosofia. Con questo che in termini tennistici è chiamato lo smash, il colpo, la schiacciata che chiude il punto. Il genio ingannevole, lo spirito malvagio, malvagio perché tutto è proteso ad ingannarmi, è qua messo a tacere. Siamo all'interno delle meditazioni metafisiche, la seconda meditazione metafisica di Cartesio, che poi leggeremo nel prossimo video. Ora, qui il suo coevo, l'abate provenzale, astronomo, teologo, contemporaneo anche ovviamente di Galilei, Pierre Gassendie, uno dei più autorevoli pensatori alternativi a Cartesio, grande empirista laddove Cartesio è razionalista, creerà una parodia, questo Pierre Gassendie, una parodia del cogito dicendo ambulo ergo sum, per camminare devo esistere, io cammino, io esisto. Poi i ricercatori universitari precari di oggi arriveranno poi, no, questa parodia arriverà fino ad oggi e diranno penso dunque sono disoccupato. Vabbè, ma questo è per cegliare. Ma, mentre negare che io stia camminando non implica che io lo faccia, negare di pensare implica comunque un pensare, negare di pensare, se nego, penso, quindi esisto. Anche per negare, per dubitare, devo pensare e quindi esistere. Il cogito ergo sum cartesiano per certi versi è simile alla conseguenza mirabilis dei logici medievali, degli scolastici, per cui si faceva derivare la validità di un'affermazione dalla constatazione di incoerenza della sua negazione. In altri termini, se una proposizione segue, addirittura prosegue, emana dalla sua negazione, allora è vera, almeno per coerenza. Esempio, nulla esiste. Dire nulla esiste comporta che esista almeno questa affermazione, per cui almeno questa affermazione esiste, per cui qualcosa esiste. Qui viene in mente, sembra di vedere il barone di Munchausen, del settecentesco bibliotecario Raspe, quando il barone di Munchausen si tira fuori dalle sabbie mobili e tirandosi per i capelli, tirandosi da solo su per il codino. Ma qui Cartesio si oppone e ci dice, signori, io non vi sto parlando di logica, e questa è la mia differenza sostanziale dagli scolastici, dai medievali. Non siamo nel campo dei ragionamenti, ma siamo nel campo della meditazione, qualcosa di ancora più profondo. E qui è tutto giocato non sulla logica, ma sull'intuizione. Il cogito ergo sum non è un ragionamento logico, è una intuizione del mio spirito ed è, attenzione a questi due lemmi importantissimi per la riflessione cartesiana, che saranno ripressi a man basse da Kant e dai seguaci, dai grandi razionalisti, il cogito ergo sum è un'intuizione chiara e distinta, cioè cristallina, cioè auto-evidente. Il fatto che io pensi è evidente in modo indubitabile, quindi eppure il gene ingannatore ci fa niente. Non può il gene ingannatore intaccare l'intuizione auto-evidente del fatto che io sono qualche cosa che pensa. È una proprietà essenziale, come la vita, direbbero sempre gli scolastici. Quindi cogito ergo sum. Cogito, due punti, sum. Io sono una cosa che pensa e posso addirittura arrivare a negare di avere un corpo, una corporeità, ma non di avere una mente. Qui facciamo riferimento ai manga giapponesi. Pensiamo al professor Senjiro Shiba, il padre di Roche, del cartonemato Gigrobo d'Acciaio. Il professor Shiba nel cartonemato fa in modo di trasferire la propria coscienza e memoria all'interno di un computer, mostrando così per la prima volta, siamo negli anni 70, signori, per la prima volta in un cartonemato, quello che oggi viene chiamato mind uploading, ovvero simulazione del cervello. Questo ci serve per chiarire che cosa pensa Cartesio in questo frangente, cioè la distinzione fra mente e corpo. Mente e corpo non sono, come ci aveva detto Aristotele, come ci avevano detto tutti gli scolastici, non sono un sinolo, cioè un'unione indissolubile, ma mente e corpo sono due cose distinte e qui arriviamo al concetto fondamentale di dualismo cartesiano, come tratto distintivo del pensiero occidentale dal XVII secolo in poi, fino al 1900. Ricordiamo il trattato di Damasio, l'errore di Cartesio, che attacca questo errore, questo paralogismo. Cartesio sicuramente è il primo a prendere il termine idea e a indicarlo come operazione mentale e non come modello inscalfibile relegato in un sopracielo come voleva invece Platone. Quando noi percepiamo o abbiamo delle passioni, usiamo le idee che ci facciamo delle cose. Attenzione perché questa è una lezione molto importante di Cartesio. Anche questo pensiero per cui i razionalisti non hanno visione e riflessione delle passioni del patino, al patino subire che ha l'anima. No, assolutamente. Cartesio addirittura scriverà un trattato sulle passioni e sarà anche, come dire, un po' la sua condanna a morte perché questo trattato sulle passioni farà impazzire la regina Cristina di Svezia e lo obblicherà praticamente ad andare a spiegare, a fargli lezioni dalle 5 alle 6 di mattina proprio su questo trattato. Ma ecco, diciamo che sì, Cartesio è il filosofo razionalista par excellence e molte volte è stato ridotto a colui che ha ridotto l'uomo alle sue mere facoltà razionali, la mente, cioè lo spirito. Attenzione, sono sinonimi in questo caso, ma le fazioni per Cartesio sono importanti, non le cassa, non le mette da parte, ci scrive, ripeto, un trattato e i rapporti fra mente e corpo, fra corporeità e spiritualità sono in Cartesio molto complicati e gli daranno grandissimo filo da torcere. Tanto che arriverà anche a teorizzare, un po' come la lambiccata teoria dei vortici, per non essere aristotelico fino in fondo, per staccarsi da Aristotele, arriverà a dire che la Terra è sospesa su un vortice, su un moto vorticoso, naturalmente sarà poi smentito dalla scienza moderna. Però ecco, diciamo che il suo sforzo di riflessione sarà quella nella teorizzazione della famosa ghiandola pineale, posta di fronte al cervello e come zona, appunto, di unione fra corpo e mente, come punto di unione di queste due entità distinte, come anima e corpo, come rescoci tante resistenza, come spirito e materia, se volete, e la giudicherà come depositaria, come centro di interazione appunto fra anima e corpo. Come l'anima muove il corpo, come il corpo influenza l'anima, appunto, teorizzerà questa ghiandola pineale che però convincerà poco anche lui medesmo nelle lettere alle varie principesse, cartesio che comunque è molto onesto, è un grande razionalista, quindi anche onesto con se stesso, e anche arrivare a pensare che io sono una cosa che pensa, massacrando tutta l'altra parte del pensiero, funestandolo al vento del dubbio metodico e del dubbio iperbolico, denota certo una grande onestà al di là, al netto delle normali, delle naturali, delle naturali, come dire, fraintendimenti e padellamenti chiari in cui è andato incontro necessariamente. E qui vi vogliamo portare una lucidissima riflessione di Massarente e Di Marco nel sapere di non sapere libro, come dire, di riferimento di questi corsi di filosofia insieme al insieme al Ciancio Pastore filosofia ai testi la storia e ovviamente anche ai filosofi e le opere di Carlo Sini, insomma, i libri a cui stiamo attingendo sono sempre di più. Ci dicono Massarente e Di Marco tale considerazione, perché non posso dubitarne, è sintomatica di due qualità essenziali della personalità di Cartesio. La prima è l'abilità di far apparire ovvie affermazioni molto problematiche. Questa è assolutamente una bravura quasi occamiana di Cartesio. La seconda è ancora più interessante, sentite qua, l'importanza di un filosofo è direttamente proporzionale al numero delle critiche che riceve, cioè più critiche e più è importante il filosofo. è inversamente proporzionale alla pietà dei critici. Più è importante e meno pietà riceverà dai critici. Abbiamo visto appunto la parodia del Cogito Ergo Sum fatta da Gassendi, ma ce ne saranno a bizzeffe, questo Cogito Ergo Sum si vive esisto, sarà attaccato sotto tutti i fronti. Cartesio sarà un filosofo molto famoso anche in vita, quindi sarà sottoposto a Carteggi e critiche di tutti i modi. Quindi non è possibile essere considerato un classico se non si è mai stati definiti un perfetto imbecille e un pericoloso idiota. Destino che accomuna tra gli altri Platone, Aristotele, Cartesio, Kant ed Hegel e viceversa non vale l'inverso. Si può essere considerato un cretino più o meno ha ragione senza essere per questo un classico della filosofia. Ci fermiamo qua con questa saporita riflessione di Mazzanetti di Marco e il prossimo video sarà dedicato alla seconda meditazione metafisica dedicata tutta al cogito e al dubbio come funzione metodica e appunto alla caratterizzazione di vera meditazione del suo testo anche al grande drammatizzazione che riesce a fare nella sua prosa vedremo appunto nella seconda meditazione sul cogito che il dubbio è oramai una mosca al naso di cui ci possiamo liberare solo se troviamo una certezza indubitabile grazie per l'attenzione e al prossimo contributo video iscrivetevi al canale lasciate un like movimentate il board qua sotto guardate sempre il link in descrizione qua sotto perché lasciamo sempre degli spunti di riflessione altri video e libri per approfondire l'argomento di riferimento del video che state guardando grazie alla prossima